L'attentatore di Utoia, il neonazista norvegese Anders Bering Breivik, non è affatto pentito del suo gesto e anzi è ancora più estremista di prima. Ciò giustifica la sua detenzione in isolamento. Lo dice il pubblico ministero alla seconda udienza del processo d'appello. L'imputato ha presentato ricorso contro le proprie condizioni di detenzione che la difesa definisce disumane e umilianti. Per provare che Breivik non sente rimorso il rappresentante della pubblica accusa ha letto stralci di una lettera dell'imputato che dice Ho scelto di usare i vostri cari come mezzo per raggiungere uno scopo, ho scelto di usare me stesso per lo stesso fine. Il 22 luglio del 2011 l'oggi 37enne militante di estrema destra massacrò 69 giovani laboristi riuniti per un campo estivo sull'isola di Utoia vicino Oslo. Poche ore prima aveva piazzato una bomba nella capitale norvegese uccidendo otto passanti. È stato condannato a 21 anni, la pena massima prevista nel paese.